Costa Ferreira porta avanti la Fidelis, Volpe la raggiunge dopo neanche 7 minuti per un pari che serve poco però ad entrambe. Succede tutto nella ripresa al Menti dove probabilmente la squadra di Cudini avrebbe meritato anche di portare a casa il risultato pieno. Il pari però serve a poco nonostante i 5 risultati utili nelle ultime 6 gare con due successi per i Biancazzurri. Walter Novellino si affida al 4-3-3 con Zigoni, boa centrale in avanti, al suo fianco D'Agostino e Bentivegna. A dettare i tempi di gioco c'è Berardo Cocco, tante invece le assenze per Cudini, per squalifica, Out Savini, Candellori e Paolini. Mentre non al meglio c'è Arrigoni ancora in panchina, modulo speculare con lo spostamento di Borg sulla fascia sinistra e Costa Ferreira a supporto dell'attacco formato da Ecuban e Bolsius. Oltre 250 i tifosi al seguito della Fidelis Almenti partono con personalità gli ospiti. Castellano molto bravo a recuperare palla nel cuore dell'aria, meno però a calciare troppo centrale con l'estremo difensore di casa. Ancora decisivo in corner del primo tempo però è ancora caldore a trovare i tempi giusti nel movimento sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il suo colpo di testa è alto. Nella ripresa scende in campo però una Fidelis decisamente più in palla. Azione solitaria da manuale per l'esterno olandese che salta tre difensori ed appoggia perfettamente il pallone per Costa Ferreira nel cuore dell'aria. Bravo ad incrociare il tiro e a battere Barosi per il suo primo gol stagionale in maglia bianca azzurra. Il gol festeggiato sotto il settore ospiti andriese diventa però una spinta per la Juve Stabia con Novellino che manda subito in campo Volpe. La Fidelis ha il cosiddetto braccino corto e arretra vistosamente con i padroni di casa prima a colpire un palo con il nuovo entrato Volpe dopo un colpo di testa di Zigoni e poi a pareggiare i conti con lo stesso attaccante numero 90 dopo un inserimento con i tempi giusti di Silipo. Il tutto in soli sette minuti. Proteste in realtà timide della Fidelis sulla posizione di Volpe al momento del cross di Silipo. Milimetrico. Invece il fuorigioco fischiato a Ventola da poco subentrato ad Ecuban con l'attaccante a metter la palla dentro su assist di Ciotti. Gol però annullato. Tanta corsa, pressione costante della Fidelis con la Juve Stabia a difendere il punto. I bianca azzurri non lasciano però l'ultimo posto in classifica ad ormai due turni dalla fine del campionato. Decisiva potrebbe essere la sfida casalinga di domenica prossima al Deglio Livi contro Ravellino. Anche se il rammarico per questa partita ma soprattutto per l'intera stagione aumenta di gara in gara visto il bel calcio e la personalità con cui la Fidelis sta affrontando questo segmento finale di stagione.